potente appara ragazzi qua Axel, oggi è legato, sono da solo e sono qui a presentare il mio nuovo video che è non magico ma magicissimo ragazzi perchè infatti oggi sono qui a presentare il mio nuovo pink pale pink pale di quale giocatore? di Xavi Team of the Year pagato la bellezza di 800.000 crediti ragazzi inizio con subito a dirvi una piccola cosa che appunto non c'entra molto però io ve la dico, mi piace questo giocatore non mi piace affatto come anche non mi piace la squadra in cui l'ho messo, infatti questo pink pale sarà abbastanza difficile perchè questa squadra non mi trovo affatto e voi vi stai leggendo, ma perchè allora la usi perchè tra anche non ho né voglia né tempo di cambiarla e poi un'altra cosa che io vi volevo dire è che se appunto siete interessati a mettere i crediti di FIFA ricordatevi di passare da FIFA con il test il link lo troverete in descrizione e quindi ragazzi, anzi no, non ho altre cose ma stiamo scherziamo ho un ammacello di cose da dirvi ma in poche parole una cosa, vi volevo ringraziare per tutto il supporto che mi state dando e mi state veramente lasciando stupitissimo fortunatissimamente perchè appunto state sempre mettendo mi piace quindi vi chiederei gentilmente anche adesso prima di vedere la partita di iniziare lasciando un bel mi piace e un bel commento un bel commento scrivendo che cosa? un pronostico per questa partita proprio ancora senza guardare la squadra senza twittare su Facebook voi scrivete un pronostico secondo voi vincerò o perderò questa partita ragazzi ci tengo ancora a dire che questa partita per me è molto importante perchè appunto se perdo questo Chavi sarà durissimo per me fare il wager contro Gabbo però ovviamente spereremo di non perderla e ovviamente cosa succede? suona il telefono quindi io risponderò e poi si inizierà come al solito cosa succede? chiamano tu rispondi ma poi metti giù comunque poco in porta e appunto stando nell'ambito di FIFA poco in porta e poco in sedia comunque questo qua è il solito tweet bla 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 Pink Palace Team of the Season Team of the Year però mannaggia la salsiccia mi sono appena ricordato che ho le notifiche dei gruppi chiusi quindi adesso noi le andremo ad aprire e accetteremo proprio un invito a casa adesso intanto vi chiedo come state voi basta adesso aspettiamo appunto i vari inviti ma facciamo già il primo e facciamo già il primo sperando che appunto io non abbia mai giocato con questa persona qua anche se non mi sembra e quindi io andrei già subito a preparare le cose andiamo a vedere e richiamano allora ragazzi gli ho detto di rinvitarmi semplicemente e eccolo qua quindi ora noi facciamo gioca gioca con amici online e lo andiamo ad invitare e noi ci siamo siamo prontissimi dai ciao viengi ciao viengi aspettiamolo beh sti gran cazzo andiamo a noi da lui ci siamo fatti invitare è il primo pink male che gioco fuori casa oh my god dai dai mi hai invitato tu non puoi non esserci via si parte e o magari togliamo quella cosa lì a destra e controlliamo ti stai registrando bla 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 e bla oddio quanto è buggata 412121212121212 serie A azz minghi madonna marchetti speravo che fosse gigi in porta che fa veramente dei fecari maiali in questo gioco comunque come ho già detto spero che sia un avversario abbastanza easy perché non mi trovo affatto con la squadra e siamo partiti poi quando usano i campi dove non ci si vede nulla grandi bravi no 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 sciavi sciavi ma vedi 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 fuori benzina 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 slegna urco 2 no che palle mamma mia sto fraseggio sto fraseggio royce oh marcone royce eh mmm oh mannaggia che due palle uno a zero è la prima volta che sale dio santo no non posso subito easy pc mod ci serve bravissimo benzina la mette che se di testa c'è il gol scusate ma sono che vissi 1 a 1 e andiamo ottimo easy easy benzina ancora la mette c'è il gol che se non ci arriva no prendila non l'ha presa non l'ha presa madonna dante intervento esemplare vai vai jesus segna oh di fuori madonna io lo spanto si oddio madonna come è un testo ma se non lo so prendila perché non mi stiamo con la squadra non so quel giudatore ma sto mi sto sconando per caso dai da mangiarzo non vogliamo non si moda buoni tiriamo madonna calcio champagne oddio che gol oddio 3 a 1 yes yes 3 a 1 mamma mia yes madonna calcio champagne ragazzi calcio champagne ragazzi calcio champagne oh oh dio 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 buono madonna come è da più che è più segna test sbocciala sbocciala in tutti i sensi uno di recupero sembra fatta perché non è mio forse faccio un altro gol boom oddio si si fisca 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 oh test manco oh non è passato è passato non so la presa voglio dirlo si uuhu shabibi ci stiviamo shabibi madonna probabilmente ragazzi ero così teso perché dopo 8 ore di scuola no ero così teso perché eeeh eeeh perché questo è importantissimo perché se io avessi perso non avrei potuto più giocare forse non dico però non avevi crediti necessari per prendermi in punto i futuri giocatori eeeh che appunto userò contro gabbo il magico e quindi madonna che bella c'è stata un appissimo data ragazzi che aveva qualcosa di magico guardiamo un attimo le statistiche e poi vi saluto allora 4 tiri lui 4 tiri portagliere lui 7 tiri io 5 portagliere partita bruttissima eeeh quindi buon ragazzi spero che il video vi sia piaciuto vi esorto alla zampa di vi ricordo di lasciare un bel mi piace un bel commento vi prego perché ragazzi io vi ho ringraziatissimo per tutte le cose che state facendo ma se volete fare ancora qualcosa di più e che appunto non vi costa tanto vi chiederei gentilmente di condividere questo video su google su facebook dove volete di mettere un mi piace di commentare magari di far conoscere il mio canale e anche i vostri amici quindi ragazzi detto questo spero che il video vi sia piaciuto io vi saluto e dico potente a pala e sento il vostro video bolla